...tasca per poter recuperare posti in classifica ...e studia e... Sì, è rusta ma ha le dita, le ha tutte 10 e forse anche di più Madonna! Rustam! Spaventoso, guardate come le arriccia tutte! Il ghiero sarà orgoglioso! Una scaletta, una passeggiata di salute! Dai rusta che adesso non si molla su questo ultimo movimento. Sì! E si inchioda! Rustam Gelmanov! Primo tentativo! ultimo tentativo per Alex Puccio